Un viaggio nel quale la gente birmana e quella bengalese mi hanno dimostrato tanta fede e affetto e nel quale in Myanmar ho potuto esprimere la vicinanza di Cristo e della Chiesa ad un popolo che ha sofferto a causa di conflitti e repressioni, mentre in Bangladesh la mia visita ha segnato un ulteriore passo in favore del rispetto e del dialogo tra il cristianesimo e l'Islam. Così Papa Francesco ha sintetizzato i temi del suo terzo viaggio apostolico in Asia, concluso sabato sera nella catechesi dell'udienza generale tenuta in Aula Polo VI, un viaggio che ha toccato due paesi accomunati dal dramma dei profughi Rohingya, più di 600.000 musulmani in fuga dallo stato birmano di Rakhine e soccorsi dal Bangladesh, paese nel quale ha sottolineato Francesco la densità della popolazione già tra le più alte al mondo. E nei saluti in arabo ha ricordato il commuovente incontro con 16 profughi ad Akka al termine dell'incontro interreligioso ed ecumenico. Sono stato molto toccato dall'incontro con i rifugiati Rohingya e ho chiesto loro di perdonarci per le nostre mancanze e per il nostro silenzio, chiedendo alla comunità internazionale di aiutarli e soccorrere tutti i gruppi oppressi e perseguitati presenti nel mondo.